DJI ha presentato il suo nuovo Phantom 4. Il nuovo Phantom si presenta in un design completamente rinnovato ed un concentrato di tecnologia assurdo. Il nuovo modello grazie ai suoi sensori riesce ad evitare ostacoli, calcolare distanze e molto altro. Quindi è stato possibile implementare la funzione Follow, infatti il drone sarà capace di seguire un soggetto e evitare ostacoli. E come se non bastasse è stata aggiunta la modalità Sport in cui il drone riesce a raggiungere velocità assurde. La videocamera può registrare fino in 4K a 60 framerate per secondo. Il radiocomando è simile ai precedenti modelli tranne per il fatto che è stato aggiunto lo Switch per la modalità Sport. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e non esitate a commentare se avete domande. Grazie. 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 Grazie.